Benvenuti nel mondo degli orologi Borberry. Borberry è un marchio britannico fondato nel 1856 da Thomas Borberry. Il marchio è noto in tutto il mondo per la sua eleganza, la sua qualità e la sua capacità di creare pezzi senza tempo. Oggi, la Maison è un simbolo di stile, non solo nel mondo della moda, ma anche nel settore degli orologi. Borberry ha sempre combinato l'eredità con l'innovazione e questo è evidente nella sua collezione di orologi. Ogni modello è realizzato con materiali di alta qualità e un design senza tempo, adatto a qualsiasi occasione. Tra i modelli più amati troviamo il Borberry rettangolare, con il suo design elegante e semplice che lo rende uno dei preferiti tra gli appassionati di orologi. Il famoso B4211, che è il perfetto mix tra bellezza e funzionalità, caratteristico di Borberry. Borberry ha anche lanciato la collezione The Britain, un tributo alla storia del marchio. Questa collezione di orologi da uomo e da donna comprende anche modelli meccanici, per sottolineare l'artigianalità e la qualità che sono diventati il marchio di fabbrica di Borberry. Ogni orologio è realizzato con grande attenzione ai dettagli e con materiali di prima qualità, per garantire la massima precisione e affidabilità. Il marchio ha saputo plasmare il panorama della moda creando collezioni di tendenza. Oggi è una delle Maison più amate e rispettate del mondo sia della moda, sia dell'alta orologeria. Scegliere un orologio Borberry significa scegliere stile, eleganza e qualità senza tempo.